Il PD si prepara alle prossime elezioni comunali in Abruzzo del 12 giugno. Già abbiamo i candidati nei comuni più grandi, tra i quali l'Aquila, ha affermato Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico. Mentre il centro-destra prosegue in difficoltà, noi abbiamo trovato la quadra sui nomi degli aspiranti sindaci e con ottimismo vediamo al futuro, evitando di fare gli errori del passato. Tutto questo a margine della presentazione della campagna di tesseramento. Si vota in 5 comuni sopra 15.000 abitanti. Abbiamo sostanzialmente concluso il nostro lavoro preparatorio. La città più grande è l'Aquila, capoluogo di Regione. Sosteniamo insieme al Movimento 5 Stelle molte altre formazioni politiche, civiche, la candidatura di Stefania Pezzopane. Un'altra donna è candidata a sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. Un'altra donna sostenuta da noi e dal centro-sinistra a Martinsicuro, Simona Lattanzi. E poi Fabio Travaglini a San Salvo. Siamo certi di strappare questo comune amministrato per dieci anni da una sindaca di Forza Italia. E a Ortona, dove la situazione è più articolata e ci sono caratteristiche più civiche, tuttavia il circolo ha deciso di sostenere la candidatura del sindaco uscente, Castiglione, che molto probabilmente sarà riconfermato. In tutti questi comuni, esattamente come nei 7 sopra 15 mili abitanti in cui si è votato negli ultimi due anni, il centrodestra fa fatica, proverà a difendere il fortino dell'Aquila col sindaco uscente, ma io credo che la prima notizia sarà che andremo al secondo turno, al di là di ogni pronostico. E quindi io penso che si confermi il fatto che, naturalmente nel rispetto delle autonomie locali, perché sono tutte scelte che riguardano le cittadine e i cittadini dei comuni in cui si vota, però in sostanza che tira un'aria che guarda al centro-sinistra. Il rapporto con i 5 Stelle? Molto buono, forse uno dei migliori d'Italia, perché costruito negli anni sui temi. Ci ritroviamo anche insieme in molte sfide amministrative. Stiamo ragionando già da adesso su come costruire un asse inedito per l'alternativa a Marsilio per la Regione. Inedito perché negli anni passati, anche alle elezioni regionali, ci siamo sempre contrapposti, anche in modo virulento, invece adesso c'è una sintonia, una disponibilità, una voglia di sostenersi intorno a due principi cardine, rispetto e reciprocità. Ottimisti? Molto ottimisti, responsabili. I cittadini hanno bisogno di una nuova classe dirigente. Abbiamo pacificato il Partito Democratico, per cui finalmente è diventato uno spazio e in centinaia si sono iscritti per giovani, donne, nuove figure, nuovi volti, per un rapporto, l'abbiamo fatto col Comitato delle Idee, con la conferenza sul lavoro, per un rapporto con persone che non sono del PD ma guardano al PD. Tutto questo deve essere una nuova classe dirigente all'altezza della sfida che vinca le elezioni ma che poi convinca nell'azione di governo.